Ciao a tutti, oggi andiamo a fare una sorta di conclusione dell'altro video su GTA V, in quanto è stato rilasciato veramente questa volta, e ho qualche immagine molto sfocata e spixelata, purtroppo questi sono gli unici mezzi che avevo e quindi ora levo la mia brutta faccia e vi lascio alle immagini. Ecco, non starò a commentare le immagini, prima sono immagini di carencamenti in cui vi faccio vedere anche quanti sono i mega da installare sull'hard disk per quanto riguarda PS3, per quanto riguarda Xbox 360 è una idea, e nel frattempo vi faccio alcuni commenti piuttosto personali, più oggettivo possibili, sul gioco, su poco di gioco, poco diciamo, un'ora e mezza di gioco che ho. Allora, per quanto riguarda partire dalla grafica, perché ci si aspetta molto da questo gioco, non ci aspettava molto, sicuramente le texture non sono a livelli troppo elevati, sono decisamente ottime comunque, per livelli molto elevati come termine di paragone prenderei da quello giocato The Last of Us, le quali sono veramente perfette, quindi qui probabilmente non era possibile per molte ragioni, probabilmente anche per la mappa enorme, per non rallentare il gioco, per non evitare friso rallentamenti di frame, frame rate esagerati. Comunque, le texture sono comunque di alta qualità. Una cosa da specificare, in particolare gli effetti luminosi, che sono ottimi, ma che ormai si stanno sviluppando sempre di più in tutti i giochi. Le sono veramente ben fatti. Per quanto riguarda invece la parte gameplay, l'unica cosa che può dare un po' fastidio a chi non vuole usare il mirino automatico è quel piccolo puntino che si usa per mirare, che credo sia già stato visto nei vari gameplay che hanno stati lasciati dalla Rockstar. La cosa che ho notato è che comunque le armi fanno male, nel senso che con un paio di colpi, ma anche uno messo bene, che non sia per forza headshot, con una buona pistola il nemico viene giù. E anche voi le beccate, diciamo, che fanno male le armi e se non si sta attenti e si prendono troppi colpi, non ci si accordano, si muore in fretta. Mentre per quanto riguarda la vita, si ricarica, nel senso che, credo, arrivi solo però a metà, nel senso, sembra di aver notato questo, che una volta che si arriva a rosso, quindi proprio a poca vita, questa risale ma fino alla metà. Quindi la barra della vita non si completa mai, se si viene colpiti. Per quanto riguarda tutto il resto delle altre piccole cose, credo che tante siano già state notate da molti, ma non so, sono sicuramente la guida molto più realistica, può sembrare un po' più complessa per l'impatto, ma si prende la mano in fretta. Il fatto che ogni giocatore, frankly, quello con cui guidavo, abbia la sua abilità, e la sua in questo caso è quella di andare in slow motion, quindi ti permette di essere molto viabili nella guida in situazioni difficili, magari quando ci trova un incrocio affollato o cose del genere, per evitare di fare un frontalone, di prendere una macchina che ci attraversa la strada, si può andare in slow motion e evitare l'ostacolo, sicuramente in modo più agile. Inoltre gli impatti con gli altri veicoli sembrano forse un po' meno, che creino un po' meno danno, ma credo, ho visto questo, cambia molto da auto a auto, era già così in GTA 4, ma credo sia ancora di più in questo gioco, quindi ad esempio con una muscle car avremo, presumo, meno danni di quanti ne possiamo avere con un'altra auto, con un utilitario ad esempio. Per quanto riguarda un'altra novità che mi è piaciuta molto, è quando si cade in acqua con la macchina, è che questa affonda e non fa quella sorta di galleggiamento per poi affondare, ma affonde realisticamente, quindi ovviamente l'acqua rallenta la velocità della macchina, che scende pian piano sul fondo, e se il fondo è basso tocca, la macchina ha comunque un po' di piccolo rimbalzo, che è molto più realistico di come era in GTA 4. Figata che già sappiamo, era quella che si poteva andare sott'acqua, l'altra figata sono la varietà di animali, ho visto lupi, cerbiatti, pesciolini, e soprattutto l'unica piccola cosa che volevo far notare, comunque vi accorgerete giocando, è la fisica dell'auto che in alcuni momenti può sembrare un po' strana, fa un po' storcere il naso, ad esempio salendo sulle montagne, ma in genere comunque i salti, non mi piacciono molto, forse è una cosa un po' personale, però non mi sembrano molto realistici, nel senso che mi sembra rimanga troppo in volo, sia un volo un po' strano, sembra quasi che lievita per un po', poi è una cosa un po' strana, mi sembra lenta cadere, sembra come se ci fosse meno gravità della realtà. L'altra cosa un po' strana, sicuramente è meglio di GTA 4, in cui alcuni momenti potevano essere di nervosismo, in quanto le macchine non riuscivano, continuavano a sgommare, non riuscivano a salire, comunque cose che succedono anche nella realtà. Qua invece pare che, almeno ho provato con macchine abbastanza potenti, non ho mai provato con macchine poco potenti, sull'erba, anche se è scivoloso, anche se la strada è scivolosa, quindi riusciamo comunque a salire anche con pendenze molto elevate, quindi cose che un po' alla Big Rigs, del tipo che c'è la salita, ma noi andiamo comunque, non ci ferma nulla e nessuno. Però insomma, il gioco ho provato poco, volevo farvi vedere queste immagini, ora vi farò vedere anche pochi video, che non sono spoiler all'inizio del gioco, se sono spoiler ve lo dico, sono piccoli pezzi all'inizio del gioco, e un piccolo pezzo di gameplay. Ho registrato anche questo male, perché ho dovuto chiedere aiuto a mio fratello, che è piccolo, e dicevo che gli faccia male le braccia, ma non la beva niente, questo è purtroppo. Quindi vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, buon gameplay, buon gioco quando uscirà, tanto esce a breve, questa è una sorta di pre-review, review fatta veloce, a caldo sul gioco. Grazie. 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 Grazie.